Hai ritrovato la fascia di sinistra, Williams sulla destra, Fraccaros in mezzo. Questo era un po' l'assetto difensivo del Parma, come ti sei trovato? Diciamo che mi sono trovata bene, abbiamo provato questi meccanismi per tutta la settimana. C'è da amalgamare un po' di più la fase difensiva, assolutamente da migliorare perché abbiamo preso due gole. E quindi sono da evitare, a maggior ragione per le disattenzioni che abbiamo avuto. Ne prendo atto anche nel primo gol, ho letto male la situazione, quindi da lì è partito il primo gol. Mi dispiace, cercheremo di fare assolutamente meglio, cercare di evitare queste cose soprattutto e di fare appunto il meglio possibile. Sul secondo più una loro prudezza? E' stata brava Capitan Braida a recuperare palla, a puntare il nostro centrale, a fare un euro-gole della domenica, quindi brava lei. Viceversa, noi insomma in avanti non abbiamo avuto lo stesso istinto da chi? E' stata cimici. Purtroppo di occasioni ne abbiamo creato un bel po', anche perché appunto, come dicevo prima, hanno avuto due occasioni concrete loro e l'hanno buttata dentro. Noi abbiamo avuto più possesso, siamo stati più davanti alla loro porta, siamo stati più nel loro metà campo, però alla fine loro l'hanno buttata dentro due volte, noi una. Quindi questo è il calcio. Grazie.